L'Alto Tireno Cosentino non si discossa troppo dai dati nazionali. Il Partito Democratico è la compagine più votata in quasi tutti i comuni. Infatti, solo a Santa Maria del Cedro e a Verbi Cari il Movimento 5 Stelle si impone sugli altri partiti, attestandosi rispettivamente al 32-35%. A Santa Maria del Cedro addirittura il PD è il terzo partito con il 24,70%, superato di quasi 3 punti percentuali da Forza Italia. Per quanto riguarda le preferenze il grande vincitore Gianni Pittella che fa incetta di voti in tutti i comuni del Tirreno Cosentino. Tirreno spaccati invece sul candidato del nuovo centrodestra nonché ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti e su di lui pesa la riforma della sanità regionale. Praia Mare e Tortora hanno dato appena 13 preferenze all'ex sindaco di Reggio Calabria. San Nicolarcella e Scalea sono gli unici due comuni in controtendenza, qui infatti Scopelliti ha ricevuto rispettivamente 41 e 44 preferenze. Situazione diversa a sud della riviera dei Cedri dove l'ex governatore ha raccolto 96 voti a Belvedere, 114 a Cetraro, 84 a Fuscaldo e 487 a Paola. In sostanza il centrodestra si mantiene solo grazie a Forza Italia che da Tortora a Paola si è mantenuto in una forbice tra il 15 e il 31%. Solo a San Nicolarcella il nuovo centrodestra supera il partito di Berlusconi mentre a Tortora i forzisti hanno sfondato il tetto del 31% per un totale di 627 voti. Un risultato che è una conferma anche per il sindaco Pasquale Lamboglia che da due mesi è stato nominato coordinatore del partito di Berlusconi per la provincia di Cosenza. Sempre a Tortora c'è stata l'impennata del partito democratico che con una percentuale del 35,16% ossia 699 voti è la prima compagine. Un dato questo che mette in evidenza anche in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2015 un aumento di consensi per il centrosinistra. Sotto il 20% invece il Movimento 5 Stelle. Tra i partiti minori forte è la presenza dell'altra Europa con Tsipras che è il quinto partito spodestando anche i fratelli d'Italia. Ma a vincere la partita è stato l'astensionismo. Pochi comuni dove si è andati oltre il 40% mentre nella maggior parte non si è superato il 30%.